Il comune di Pozzaro sarebbe ormai sull'orlo del dissesto finanziario. Non a caso il commissario si è insediato a Palazzo Rapiga. Il funzionario regionale, quale primo atto, ha richiesto al presidente del Consiglio Comunale la convocazione della civica assise con all'ordine del giorno le comunicazioni riguardo alla situazione finanziaria dell'ente. È l'opinione ormai comune anche tra gli amministratori che il dissesto sia ormai un fatto solo di tempo e tecnicamente inerudibile. Il sindaco Luigi Ammatuna tuttavia vuole giocarsi l'ultima carta per evitare il dissesto dell'ente. È stato infatti presentato il ricorso al Consiglio di Giustizia e Amministrativo di Palermo per contestare la procedura seguita dall'assessorato regionale agli enti locali nella applicazione della procedura di dissesto. Il sindaco ha sempre sostenuto che Pozzaro nell'ultimo periodo ha realizzato risparmi e tagli tali da giustificare il blocco della procedura di dissesto. Comunque andrà a finire, il sindaco Ammatuna ha dichiarato più volte che non si ripresenterà per un secondo mandato.